Questo è per il sistema Nespresso attaccato con una macchina di Nespresso e è anche usato per il tè Questo è per il sistema Lavazza Può essere usato 300 volte e quando lo lasciate, è riciclabile e magari non potrebbe essere la soluzione ma è un messaggio alla grande corporazione stiamo riuscita, troviamo qualche soluzione bisogna riuscire per trovare una migliore soluzione un'altra esperienza su responsabilità estendere la responsabilità del produttore è sui piedi avete visto che qualche parte del residuo è venuto da piedi vecchi piedi questa è una fabbrica in Mantua che produce piedi con un lungo tempo di vita quando hai una parte rompita puoi riempire la parte rompita e questo è un esempio di produttore di responsabilità ma il produttore del produttore ma il produttore del produttore è overrecycling bisogna riempire tutte le cose ma bisogna affrontare la società e bisogna un altro tipo di società è immorale riempire riempire che bisogna con altre persone altri paesi i paesi e quindi bisogna approcciare riempire ma bisogna riempire riempire e ora buone notizie d'Italia questa è la lista è complicato leggere tutto il nome di un municipale ma 75 municipali in Italia hanno adottato a livello un obiettivo un obiettivo in Italia qualcuno dice sì ma in Italia ci sono 8.000 di un municipale è molto piccola ma è più importante se vedete il numero della popolazione il numero della popolazione è 2 milioni e 400.000 di inhabitants involvati in zero ma non parlano di zero waste zero waste anche Nepple è parte di questa lista non è facile in Nepple ma in Nepple funziona molto bene nel fin di questo anno si involverà 6.000 persone in separazioni dove nu più 200.000 persone sono involvati in scambi e il risultato è simile all'altra parte dell'Italia 70% in famosa area famosa per crimes sono 70% di separazione in tutto Campania ci sono diverse pratiche e le persone che erano famosi per il dramma di nuova le persone molto involvati in nuova leadership supportano nuova le persone i miei amici amici sono amici molti volte magari 50 volte per supportare le battaglie contro incineratori e ho conosciuto il miei Tommaso Sodano e la leadership è una leadership che vuole andare a zero è non facile ma bisogna il nostro supporto e la maggior parte di questa lista è formata da municipali che confrontano un problema generale è chiaro come in un bellissimo paese dove vogliono construir un incineratore è la popolazione che inizia la politica popolazione popolazione stress push perché la leadership potrebbe fare il meglio per evitare incineratori e questo è una campagna per la nostra campagna in Italia passiamo dove ci sono conflitti locali e stiamo cercando di involvere la leadership e potresti declarare il zero waste goal invitiamo i gruppi e poi proviamo con il Consiglio la maggior parte viene con noi un nuovo da Capanuri è che anche il ministro economico chiede la Capanuri di insegnare le migliori pratiche nelle quattro regioni dell'Italia coinvolgono in crisi Sicilia Puglia Calabria e Campania il ministro chiede come coinvolgere le municipali per promuovere buoni scambi per separazione per riduzione e così è importante perché è un'opportunità anche per Capanuri per avere alcuni fondi alcuni suporti e per mostrare l'importanza della municipale in Capanuri in comunità tutti sono orgogliosi di questo ruolo perché Capanuri è molto sulle tv nazionali sono invitato l'ultimo settimana sono invitato per mostrare questa cappella alla più importante italiana trasmission di più di 7 milioni di audience potrebbero vedere questa modo evitare cappelle rispetto se ci sono una comunità trovi niente sono famosi perché abbiamo qualcosa per ciò per il migliore delle comunità e questa è la ultima slide on Saturday avremo un allenamento nazionale con Paul con Enzo e con i più importanti esperti su zero waste non solo un esperto su gestione ma anche un esperto su zero waste questo è un cambiamento non bisogna parlare ma bisogna parlare del miglior modo di recuperare le cose il miglior modo di salvare l'economia il miglior modo di salvare le persone di lanciare un nuovo messaggio di dare una speranza perché bisogna ricordare che stiamo parlando di waste ma non stiamo perché vogliamo un nuovo lavoro stiamo parlando di zero waste perché vogliamo un altro modello della società grazie 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 a tutti